Era il 27 settembre scorso quando a Palermo alla presidenza della regione fu firmato l'accordo attuativo di intervento attinente alla riqualificazione della portualità gelese con il ripristino funzionale ed il potenziamento del porto rifugio. Le firme furono apposte dal governatore Rosario Crocetta, dal sindaco di Gela Domenico Messinese, dalla responsabile regionale della protezione civile Carlo Gerofoti e dai vertici dell'Eni. Tutto rientrava nel protocollo d'intesa per l'area di Gela, sottoscritto il 6 novembre del 2014. All'incontro palermitano erano presenti anche altri rappresentanti della giunta comunale della Sise Civica e la delegazione parlamentare gelese all'Ars. C'erano anche i componenti dei vari comitati del porto. Alla fine si brindò. Finalmente si disse, si iscrisse, erano finiti i viaggi della speranza. Alcune settimane dopo fu individuata anche la figura della responsabile unico del procedimento. Bene, anzi male. Da quella data ad oggi sono passati esattamente un mese e 21 giorni ed è tutto fermo. Proprio ieri per fare il punto della situazione si è svolto un incontro al comune alla presenza del gruppo di lavoro del porto convocato dal presidente del consiglio comunale Alessandra Ancia. Presenti il vice sindaco Simone Siciliano, il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Virginia Farruggia ed i rappresentanti del comitato del porto, della situazione pescatori e del gruppo Barcaioli con Massimo Livoti, Ascanio Carpino, Giuseppe Bellavia e Vincenzo Casciana. Alla riunione, indetta ad alcune settimane, non hanno preso parte la protezione civile e la capitaneria di porto. Dall'incontro, come dicevamo, è emerso poco, anzi nulla. Infatti, dalle informazioni raccolte dal presidente della Sese Civica, dopo un colloquio telefonico con il responsabile unico del procedimento, Gaetano Calafato, non c'è alcuna certezza sull'avvio dei lavori della caratterizzazione della sabbia necessari per ottenere le autorizzazioni ministeriali per istituire il bando di gara per i lavori programmati. Dunque tutto rimane al momento com'è. Il gruppo di lavoro, assieme all'amministrazione comunale, sta inviando un'ulteriore nota alla Presidenza della Regione, al Dipartimento della Protezione Civile e ai deputati regionali Federico, Arancio e Cancelleri, oltre a quella già inviata dal sindaco di Gela lo scorso 4 novembre e della quale non si è avuto riscontro, per richiedere con la massima urgenza di indire un tavolo alla Regione al fine di verificare lo stato dell'arte. Se non ci saranno risposte immediate, certe, non escluso lo stato di agitazione e con proteste eclatanti da parte di chi realmente soffre maledettamente un porto insabbiato. Loro sono gli operatori della struttura portuale. Ai deputati regionali eletti in provincia, il Comitato del Porto chiede interventi immediati, fatti concreti, battano i pugni e facciano sentire la loro voce, perché una città bagnata dal mare, che non ha un porto fruibile, è il paradosso di tutti i paradossi. Non vorremmo, aggiungiamo, che oltre al porto insabbiato, nella lenta burocrazia amministrativa si insabbino anche i progetti.